Ed ora ci occupiamo di fallimenti. Il record nel primo trimestre di quest'anno, 3.005 le procedure avviate, più 12% rispetto allo stesso periodo del 2012. I particolari nel servizio di Giampiero Scarpati. La crisi colpisce duramente l'economia reale. Le imprese, strette tra i consumi impicchiate e un pisco tra i più alti d'Europa, continuano a chiudere. E quel che è peggio è che c'è un'accelerazione che testimonia che la difficoltà è diventata emergenza. Nei primi tre mesi di quest'anno i fallimenti hanno già toccato quota 3.500, in aumento del 12% rispetto all'anno scorso. A chiudere i battenti, in totale sono state circa 23.000 imprese un po' in tutto il paese. L'aumento maggiore del numero dei fallimenti si è avuto infatti nel nord-est, più 24%, in 12 mesi. L'uscita dalla crisi, secondo l'Ocse, arriverà il prossimo anno, ma, dice l'organizzazione di Parigi, il nostro paese deve continuare sulla strada delle riforme ed evitare riduzioni premature delle tasse. Rivissa a ribasso anche le stime di crescita dell'Italia, meno 1,8% quest'anno e più 0,4% nel 2014, mentre il debito pubblico continuerà a salire. In aumento anche la disoccupazione, che nel 2014 arriverà al 12,5%, ed è proprio l'esigenza di creare lavoro il problema più urgente. Dagli artigiani arriva una proposta concreta. In i prossimi dieci anni, dice un studio della CNA, circa 500.000 imprenditori e anziani dovranno lasciare la loro impresa, a fronte di una platea di circa 2 milioni di giovani tra i 18 e i 35 anni, pronti a subentrare. Di qui l'idea di favorire una staffetta generazionale, in linea con quanto sta studiando il Governo, attraverso agevolazioni fiscali e retributive.